Nella giornata di ieri ho deciso di portarvi un video, uno soltanto, anche perché siamo in pausa nazionale e quindi non mi piace mai sovraccaricare la pausa nazionale con tanti contenuti, anche perché giustamente il tifoso che ha tutto e vede tutto nella Juventus questa pausa nazionale magari cerca anche di rilassarsi un attimo, non voglio quindi stressarvi con continui contenuti, però ieri ci sono state anche un paio di notizie che sono venute fuori e quindi le affrontiamo nel video di oggi. Intanto con Seisao, dove l'AIA è andata ad ammettere, c'è stato un errore, un errore evidente su quel fallo che ha portato all'ammunizione e quindi l'espulsione di con Seisao all'interno dell'ultimo Juventus Cagliari, quello è stato un errore di valutazione dell'arbitro, quello non era cartellino giallo, secondo cartellino giallo e quindi espulsione, ma il giocatore sarà squalificato in ogni modo. Come possiamo descrivere questa situazione? C'è solo un modo per essere anche abbastanza eleganti, perché altrimenti ne sarebbero di più. Grottesca, questa è e rimane una situazione grottesca. Nel momento in cui ti accorgi di aver fatto un errore, e nel momento in cui ammetti di aver fatto un errore, il giocatore non può essere squalificato perché comunque sul referto dell'arbitro c'è scritto che il giallo è giusto, perché se no è lo stesso discorso che facciamo da anni con la VAR. A che cosa serve la VAR se poi l'arbitro dice no, ho visto giusto io, per me è corretta la mia lettura, anche se dalla sala VAR gli fanno presente che ehi, attenzione, sarebbe meglio tornare sui tuoi passi. Il mondo degli arbitri è un mondo che io non apprezzo particolarmente, lo sapete, non mi piace mai parlare di arbitri, anche perché poi si aprono davvero delle situazioni, ripeto ancora una volta, grottesche, e si va sempre scontrare quello che dovrebbe essere un criterio di oggettività con la soggettività. È ovvio che ogni situazione è diversa, è ovvio che ogni situazione può avere delle letture differenti, però bisogna cercare di omologare il più possibile queste letture e portarle sotto forma oggettiva e non soggettiva, perché se no non si può parlare di regolamento se parla semplicemente di preferenze, e questa cosa non è bella. La Juventus non avrà quindi a disposizione con SESA o nella prossima partita con l'Alessio, oltre al danno la beffa per quanto riguarda la Juve, come ho visto che ieri è diventato un po' uno slogan sul web, concordo assolutamente con questa lettura. Io stesso in prima battuta avevo considerato eccessiva la reazione di con SESA o mi sembrava che avesse simulato, dopo aver rivisto il replay mi sono accorto che, ehi, attenzione, comunque la mano era stata messa, il giocatore arrivava in velocità, molto più velocità rispetto all'avversario, ha sicuramente provato la furbata nel conquistare il calcio di rigore. Non veniamoci a raccontare favole, tutti i calciatori provano a guadagnarsi il calcio di rigore a un minuto dalla fine di una partita che non stai vincendo, non c'è stato, secondo me, l'intervento sufficiente per fischiare un calcio di rigore, ma il cartellino giallo per simulazione è stato decisamente eccessivo. Questa è stata anche la lettura dell'AIA, ma la squalifica con SESA o c'è e resta il paese dei balocchi. Supercoppa si giocherà a gennaio, si giocherà in Arabia, la Juventus avrà la possibilità quindi di andarsi a conquistare il suo primo trofeo stagionale, anche l'anno scorso alla fine si è giocato in Arabia la finale di Coppa Italia. Speriamo che possa esserci buona fortuna, conquistare un trofeo è sempre cosa buona, giusta e apprestatissima. Ovviamente il calendario viene ancora maggiormente congestionato dall'ennesima competizione, dall'ennesima partita all'interno di una stagione che sapevamo essere non lunga, di più lunghissima. Tiago Motta in conferenza stampa va sempre a sottolineare come era conoscenza del calendario della Juventus ben prima di accettare l'incarico di allenatore della Juve e che quindi poi difficilmente ci si potrà andare a lamentare. Però ovviamente giocare così tante partite è un bello stress e porta via energie fisiche e psicologiche. Questo è un discorso che abbiamo affrontato in larga scala lo scorso anno quando la Juventus era priva delle coppe, giocava soltanto in territorio nazionale, Serie A e Coppa Italia e ci continuavamo a dire che nel momento in cui poi le avversarie arriveranno a quel momento della stagione in cui avranno anche le coppe europee saranno un po' più stanche, noi dovremo cercare di approfittarne. Invece è stato paradossale perché nella seconda parte di stagione va bene, le avversarie erano comunque uscite dalle coppe indubbiamente, però la Juventus ha avuto quel crollo emotivo post pareggio con l'Empoli e non è più stata in grado di vincere le partite praticamente in Serie A fino al finale di stagione dove l'ultima partita in Serie A vinta è stata non da Allegri perché era già stato esonerato, bensì da Montero. Ed è proprio qui che si apre un po' il discorso legato ad Antonio Conte perché l'altro giorno vi dicevo in conferenza stampa che non avevo visto la frecciatina di Antonio Conte nei confronti di xyz, vedetelo voi, sono andato a recuperarmi la clip, quel famoso hai voluto la bicicletta, c'è qualcuno che ha voluto la bicicletta, adesso e ora che pedali, perché cani schunefes, perché voglia mettere la pressione esterna sul Napoli. Ora, io voglio tanto bene a Antonio Conte e a tutto l'universo Antonio Conte perché queste dichiarazioni fanno parte dell'universo Antonio Conte. Però cerchiamo anche di essere coerenti, cerchiamo di fare un discorso fatto bene, cerchiamo di non mettere pressione esterna sul Napoli, non è questo il mio obiettivo, ma semplicemente fare il punto della situazione. Quando al termine del calcio mercato andiamo a mettere le gridi di partenza, io vi dico che le prime tre squadre per la mia lettura, secondo me in Serie A al termine dell'anno saranno Inter, Napoli e Juventus con l'Inter che andrà a vincere lo scudetto, Napoli e Juve che se la giocheranno per secondo o terzo posto, magari anche comunque per il primo, poi alla fine si staccheranno e arriveranno seconda e terza con la Juve che spero che possa arrivare almeno seconda a contendere fino all'ultima giornata il posto all'Inter. Quindi queste sono le tre squadre migliori per me, per costruzione di organico in Serie A e per quello che è l'approccio e per quello che possano dargli allenatori. Poi ce ne sono tante altre, c'è il Milan, c'è l'Atalanta, c'è la Roma, c'è l'Azio, secondo me queste arrivano dopo rispetto a queste squadre qui. Il Napoli non ha le coppe, non prendiamoci in giro, come lo dicevamo l'anno scorso, lo diciamo quest'anno e lo diremo sempre, la squadra che gioca senza coppe è sempre una squadra che andrà a raccogliere qualche punto in più perché sarà più fresca. Io mi rendo conto che tutti gli anni si dice che si giocano troppe partite, i giocatori sono stanchi eccetera eccetera, poi quando l'allenatore di turno è senza coppe dice eh sì però non è un vantaggio. È una linea comunicativa che mi fa sempre molto ridere, quando si allena ci si lamenta delle troppe partite, se no ci si ritrova in quella situazione e si alza le mani. L'altro giorno Spalletti ha detto che secondo lui non si gioca nemmeno troppe partite, Spalletti allena nazionale, io me lo ricordo Spalletti quando allenava i club e si lamentava delle tante partite che si continuavano a giocare. Anche questo fa parte del famoso e fantastico mondo dell'ipocrisia degli allenatori dal punto di vista comunicativo, non ci sorprende, non ci stupisce, è tutto un unico malloppo. Antonio Conte non può farmi passare l'idea che uno come lui che è l'allenatore più vincente della Serie A in questo momento non giochi per vincere. Proprio lui che quando arriva secondo gli rode, proprio lui che ha chiamato sua figlia Vittoria, proprio lui che ha richiesto a De Laurentiis forse l'investimento più grande nella storia di De Laurentiis da quando è presidente del calcio Napoli. Non allena una squadra di ragazzini che non possano vincere lo scudetto. L'anno scorso ha vinto l'Inter, l'anno prima l'ha vinto proprio il Napoli, non è lo stesso Napoli però abbiamo tanti protagonisti, i difensori, a parte Buongiorno che è stato il colpo più grande interno della Serie A per quanto riguarda l'infestore dell'ultima sessione estiva, sono giocatori che hanno vinto lo scudetto. A centrocampo 2 su 3, il terzo è McTominay, hanno vinto lo scudetto e McTominay mi sembra già un ottimo calciatore. Secondo me il grande punto debole del Napoli sugli esterni perché Politano deve inventarsi in un ruolo non suo. A sinistra tra Spinazzola e Olivera, non è che stiamo parlando di crema di crema alla Edgar per citargli Aristogatti e davanti, è vero che è andato via Osimè, McVara c'è, è rimasto, mi sembra un giocatore super pimpante e Lukaku lo scudetto ha vinto proprio con Antonio Conte in Italia. Quindi io capisco ed è giustissima la linea comunicativa, non è una sorpresa, anzi sarebbe stato sorpreso il contrario, ma è chiara la linea comunicativa di Antonio Conte e cioè cerco di togliermi di dosso la polvere che mi sta arrivando addosso, rimando agli avversari, a qualcuno le indicazioni di Napoli favorito per lo scudetto, anche se magari qualcuno non le vedete, però intanto le rimandiamo indietro, però io sono dell'idea che il Napoli non sia la favorita allo scudetto ma che sia una delle pretendenti al titolo, che non è la stessa cosa, c'è differenza, ma sono cose che vanno sottolineate perché se ci sediamo qui e ci diciamo, guardandoci negli occhi, il Napoli senza impegni settimanali europei, ma con soltanto il campionato da portare avanti, può essere vista come una delle pretendenti al titolo? La risposta è no, allora io alzo le mani, chiudiamo tutto, Baracca e Burrettini andando all'altra parte perché non stiamo parlando in maniera onesta. Quindi Antonio Conte fa non bene, benissimo a dire che il Napoli bisogna lasciarlo stare eccetera eccetera perché quello è il suo mestiere, fa parte del suo lavoro, deve cercare di isolare e togliere la pressione, benissimo, però poi ci siamo noi, quelli con la faccia da stronzo che ci mettiamo qui, diciamo attenzione no, non è così. Per quanto riguarda la Juve penso che il discorso sia bene o male lo stesso, anzi io sono dell'idea che la Juventus ogni anno debba partire con l'idea di vincere il campionato. Poi non significa che lo debba vincere ogni anno ma la Juventus che parte all'idea di vincere e dice sì vabbè dai la Serie A quest'anno no vabbè non è roba per me, per me non è la Juventus assolutamente, non può esistere questa cosa, ci sono squadre che devono partire con l'idea di vincere. Milan quest'anno mi sembra una squadra con tanti problemi, credo che arriverà in Champions, non so se lo farà, con questo allenatore ci sarà un cambio in panchina, in questa sosta nazionale si continua a parlare di cambio in panchina per Fonseca, si fanno i nomi di Sarri, di Allegri, di questo, di quell'altro, io non so quanto tempo avrà ancora Fonseca a disposizione e poi c'è l'Inter che è la squadra con la rosa migliore in Italia, che è campione in Italia in carica e che se devo pensare a una favorita è lei, però occhio perché il Napoli di Conte e questo Napoli con questa rosa, con questo mercato, con questo allenatore in una situazione senza coppe non è pericoloso di più, per quanto il buon Antonio voglia farci credere che lui per lo scudetto non c'è e non ci sarà mai in questa stagione. Quanto lo conosco bene Antonio Conte, fatemi sapere la vostra un po' qui sotto nei commenti. Ciao!